Eccoci qua con il mister Marco Bonura per commentare questo Folloni Cagavorrano Givi Borgo. Mister, abbiamo visto comunque una partita abbastanza strana, nel senso che il Givi Borgo probabilmente ha badato un po' più ad ammazzare il gioco, ad ammazzare il ritmo. Noi abbiamo avuto un gioco molto più propositivo, con varie occasioni, però abbiamo anche rischiato, specialmente con Zini che ha calciato fuori da posizione invitantissima. Non so se la pensi allo stesso modo, se vuoi aggiungere qualcosa. No, 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 è chiaro che la partita da un punto di vista del possesso l'abbiamo fatta più noi. Ne abbiamo rischiato su quella l'unica occasione su una ripartenza su una palla nostra, tra l'altro una palla in uscita, facile. Abbiamo perso una palla e lì per assurdo l'occasione più grande l'hanno avuta loro su una ripartenza, quindi lì abbiamo rischiato di prendere sull'unica situazione, penso. Però noi, ripeto, siamo stati volentieri, abbiamo fatto un gran possesso palla, siamo stati lì a muoverli, cercando anche diversi cross, abbiamo fatto tanti calci piazzati. Purtroppo poi un abito secondo me che è un po' i cartellini, nella gestione dei cartellini sicuramente non mi è piaciuto, non parlo mai degli abiti, però qualche cartellini più potete tirarlo fuori. Loro diverse volte hanno interrotto qualche ripartenza nostra, però ripeto, c'è stato questo 0-0 che chiaramente non ci soddisfa, perché chiaramente sono partite queste, quando giochi in casa, specialmente con questo campo bello, dove noi chiaramente riusciamo a fare meglio. È venuto fuori 0-0 che chiaramente non ci soddisfa, però bisogna anche dire che a questa occasione non l'abbiamo creata e quindi è anche giusto. Non hai parlato del rigore, lo dico io, perché comunque vedendo le immagini il fallo su Barlettani era nettamente dentro l'area. In ogni caso possiamo dare magari un po' l'alibi delle assenze anche immagino? Sicuramente no, le assenze no, ma è chiaro che le assenze sono state importanti negativo, ma no perché chi è sceso in campo ha dato tutto, perché dopo chiaramente non avendo poche soluzioni, perché poi davanti chiaramente ho dovuto fare il cambio subito tra l'altro di Mugeri che ha avuto un problema al ginoccio. Quindi c'è un cambio da discepolo e quindi perché anche quando nel secondo tempo stavamo lì, 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 però come giocatore offensivo non avevo più nessuno, a parte Cerrato che è un ragazzo del 2005, quindi avevo poco soluzione. Per quello c'è il rammarico, perché nell'arco di 90 minuti chiaramente qualche forza più fresca ci avrebbe fatto comodo, per quello sì. Certo, 0-0, però sesto risultato utile consecutivo, vedi il bicchiere in questo momento più mezzo pieno o più mezzo vuoto, nel senso che magari c'è ancora da lavorare molto dal punto di vista, non lo so, dei giovani, dell'atteggiamento? No, è chiaro che c'è sempre da lavorare, quindi bisogna sempre lavorare e cercare di migliorarsi. È chiaro che se esso risultato come di città è utile, però magari oggi c'è un pizzico amarezza, ma perché c'è magari l'opportunità di fare un passettino in avanti, e chiaramente lo 0-0 ci tiene un po' lì bloccati, però come ho detto prima bisogna cercare di analizzarla a martedì qua ragazzi e poi ripartire, perché chiaramente il campionato prosegue, quindi bisogna pensare subito alla trasferta di tra nuove. Certo, grazie mille al mister Marco Bonnula. Certo, grazie mille.